Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo unboxing riguardante il sito Aliexpress. Quest'ordine riguarda una pellicola in vetro temperato per lo schermo degli smartphone, in particolare questa per lo Xiaomi Mi 4. L'ordine è impiegato a giungere a destinazione 23 giorni, il prezzo pagato è di 3 dollari e 35 che sono circa 2 euro e 98 centesimi, la spedizione usata è la cena post small packet non tracciabile, il venditore ha dichiarato che si tratta di uno screen protector e ha dichiarato un valore di 2 dollari, inferiore a quello pagato. Apriamo. Imballato bene. Dentro è Screen Protector, questa è la marca per Xiaomi Mi 4. Andiamo ad aprirlo. Dentro ci sono questi adesivi per pulire i residui di polvere sullo schermo. Questi due vet and dry, insomma per pulire lo schermo prima dell'applicazione del vetro. Qui c'è il vetro temperato. Questo è lo spessore frontalmente. E poi qui c'è il manualetto con le istruzioni. Ok. Questo è il prodotto ordinato. Se vi interessa, come al solito, vi lascerò il link nelle informazioni del video qui in basso. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e se non siete iscritti al canale, fatelo. Così resterete sempre aggiornati sui nuovi unboxing riguardanti sia LeExpress che molti altri siti. Per il video di oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie! Grazie.